Amici Trebi Miteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Diamo un'occhiata al tempo che farà nei prossimi giorni, in particolare durante il fine settimana, anche perché forse avrete sentito, ci attende un weekend particolarmente mite in gran parte d'Italia, addirittura dal sapore quasi primaverile. Come mai il tutto per effetto dell'alticicolo e dell'azzorre che continua a rimanere posizionato sull'Europa occidentale e che si sta allungando anche verso la nostra penisola. Quindi lontane le perturbazioni atlantiche, bassa pressione alle alte latitudini, il flusso di correnti perturbate rimane sull'Europa centro-settentrionale e così da noi, ripeto, bel tempo, ma soprattutto aria particolarmente mite in arrivo sul nostro paese. Si parte già venerdì al nord-ovest per effetto anche di venti di feno, potremo già toccare superare i 15 gradi e poi pian piano quest'aria mite avanzerà durante il weekend anche nel resto del paese. Così guardate che temperature potremo registrare. Al nord punte anche oltre i 20 gradi, sempre per effetto soprattutto di venti di caduta sulle regioni di nord-ovest. Comunque al di là del motivo potremo in effetti misurare valori oltre i 20 gradi. Ma anche al centro-sud punte di 19-20, ben al di sopra delle medie del periodo, veramente clima primaverile. In realtà durerà poco, nel senso che nella seconda parte di domenica, aria più fredda in arrivo dall'Europa centro-settentrionale e diretta verso i Balcani, riuscirà dalla porta della Bora a entrare anche sul Mediterraneo centrale e sull'Italia. Portando così da domenica pomeriggio sera un calo delle temperature e anche un passaggio perturbato soprattutto sulle regioni adriatiche. Però ripeto, gran parte del weekend sarà con temperature decisamente al di sopra della media. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale o su 3bmeter.com o tramite la nostra app gratuita.